Durante un controllo di routine da parte di carveni della compagnia di Ivrea sulle strade canavesane, una macchina ha ignorato l'altri militari e ha destrato il sospetto. L'ottovettura, guidata da un pari di 21 anni, dopo un breve inseguimento è stata fermata e controllata. Nel veicolo sono trovata una busta di celofan contenente un panetto a 300 g di hashish e 57 g di marijuana. Negli slip del fermato c'è anche una busta di celofan contenente 50 g di hashish e 58 g di marijuana, oltre 150 euro nelle tasche e pantaloni. A casa dell'uomo inoltre i carabinieri hanno trovato nella camera da letto 25 g di hashish. Lo stupefacente, il denaro contante e il telefono cellulare in uso sono stati sequestrati. L'uomo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.